Radio Pisa Junior, ogni mercoledì alle 18.30 un salto nel futuro nel Razzurro. Carlo Palotti e Andrea Chiavacci in compagnia di Massimo Corsini vi raccontano tutto, ma proprio tutto, del settore giovanile dell'AC Pisa 1909. Buonasera a tutti, allora orfani di un Andrea Chiavacci fin troppo cagionevole di salute, siamo qua io e Carlo Palotti invece con un grande ospite. Questa sera a raccontarvi tutto, ma proprio tutto, come dice la nostra sigla, del settore giovanile del Pisa, che fra l'altro ha trascorso un fine settimana mi sembra da vacche grassissime proprio. E' scoppiettante nel secondo consecutivo, quindi grandi risultati, grande gioia per tutto il settore giovanile, soprattutto per la Berretti di Mr. Manuel Caponi che abbiamo qua in studio con noi. Ciao Manuel, come va? Buonasera, tutto bene, tutto benissimo. Sì, insomma, anche prima parlando un po' prima dell'inizio della trasmissione, è un po' quello che è venuto fuori, il Mista sta attraversando un punto di vista professionale sicuramente il momento migliore dall'inizio della stagione. La Berretti ha guantato, come si dice da queste parti, il nono risultato utile consecutivo, cinque pareggi e quattro vittorie, soprattutto le ultime vittorie arrivate contro squadre di alta classifica e domenica scorsa invece in uno vero e proprio scontro diretto. Il Pisa si sta avvicinando, è vicinissimo alla zona che conta veramente del girone C della Berretti nazionale, insomma, meno tre dall'Aquila. A questo punto il quarto posto è veramente a portare in mano. No, bisogna guardare partita per partita. I ragazzi stanno veramente dando tutto. Sicuramente quando si è a rincorre, no? Purtroppo dopo un inizio non perfetto, ora siamo veramente a rincorrere, ma si sta facendo veramente bene. Poi il risultato per me è una conseguenza della settimana, del lavoro che stiamo facendo ormai da inizi di agosto. Quindi tutto, secondo me, è tutto regola. Una squadra che, come abbiamo detto, ha iniziato a subire meno gol, facendone di più e soprattutto riuscendo a concretizzare al massimo le occasioni, la costruzione del risultato durante le partite. Mentre prima poteva succedere che magari potesse anche migliorare, avere la meglio sul campo, ma poi alla fine il risultato poteva essere invece negativo, tolti quei due pareggi, arrivati un po' in rimonta, subiti dall'Arezzo e dalla Salernitana, che a questo punto avrebbero concesso al Pisa di essere già nella zona che conta della classifica, vabbè, diciamo, tolti quei due pareggi lì, nelle ultime nove partite veramente il Pisa è riuscito a concretizzare al massimo ciò che ha costruito in campo. Ecco, questo è, secondo te Emanuele, il raggiungimento di un lavoro fatto anche da un punto di vista psicologico con la squadra, oppure è solamente casualità? No, assolutamente. Sicuramente, io penso che sia questo, siamo sotto, si sente, no? Si sente, sì, sì. Secondo me è tutta una questione, a livello psicologico abbiamo lavorato molto bene, dopo quei due pareggi da 2 a 0 fino all'ottantacinque, all'ottantatresimo, 2 a 2 di fila, ci hanno un po', sicuramente un po' tagliato le gambe, però i ragazzi sono stati bravi ad alzarsi, sono stati bravi a ripartire, a credere nell'obiettivo, lavorare, 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 fanno sacrifici, fanno per non tardi a scuola, fanno tre in ritardo, quindi i ragazzi fanno tutto per vedere se riescono a raggiungere questo sogno che si chiama calciatore, e dico, secondo me danno veramente tutto, e si vede la domenica, il sabato, scusami, mi chiamo il sabato, e in settimana veramente i ragazzi si comportano bene. Per me è molta una questione psicologica, infatti mi ha fatto vedere che sta facendo risultati positivi ora. Scusami, si è cambiato dall'inizio dell'anno, visto che all'inizio la squadra stentava un po', era solo questione di amalgama, oppure c'è dell'altro? All'inizio l'anno si è preso un gruppo, almeno io ho conosciuto la prima volta questi ragazzi, era agosto, era un gruppo fatto dall'aliena nazionale l'anno prima, e la Beretti l'anno passato, ma i ragazzi che in Beretti non avevano giocato molto, l'aliena nazionale l'anno prima avevano avuto delle difficoltà, quindi per me è stato tutto un momento di amalgama, c'è avuto momenti, c'è avuto allenamenti, situazioni, scene, c'è avuto per tutto, per tenere il gruppo compatto e per riuscire a sopperire a qualche mancanza che magari poteva essere a livello tecnico, ma invece noi a livello di testa, comportamentale, si sta veramente facendo molto bene, quindi vedo veramente ragazzi che si vogliano bene, ragazzi uniti, ragazzi al gol fatti, vengono tutti a abbracciarsi, non vedo nessun tipo di sapore fra di loro, quindi siamo stati bravi noi, noi tecnici, io e chi è con me, chi lavora con me, e i ragazzi per tutto non sono seguiti, quindi per questa è una questione di gruppo, ovviamente, a livello tecnico, a livello tattico, abbiamo lavorato tanto e gli esultati stanno venendo fuori. E ora mister, partendo già dal match di sabato prossimo al Bianco Forno Camp contro l'Ischia Isola Verde, altro vero e proprio scontro diretto e poi anche con gli altri due match a seguire che saranno contro la Juve Stabia e contro la Paganese, il Pisa si gioca tutto, o perlomeno buona parte delle chance di agganciare il treno che conta. Sì, ragazzi, sicuramente noi carichiamo la partita come tutte le partite si fa affrontare, noi si guarda sempre quella dopo, quindi adesso abbiamo l'Ischia, l'andata abbiamo battuto dopo uno giocando un calcio laggiù, in un sintetico bellissimo, purtroppo il nostro campo non è nelle stesse condizioni, però noi cercheremo di fare necessità virtù e di cercare di abbattare il nostro campo, che finora il nostro campo ci ha portato veramente bene, perché abbiamo fatto una sola sconfitta la seconda giornata con la Ternitana, poi noi siamo stati sempre imbattuti e poi alla fine abbiamo portato via anche tanti risultati positivi. Senti un po', ecco, se come abbiamo detto l'equilibrio, cioè la squadra è riuscita a trovare qualche equilibrio in più, sia nel rapporto tra attacco e difesa, ecco, dov'è che ancora stai lavorando, cioè su cos'è che stai lavorando in maniera specifica insieme al tuo secondo, Concordia? No, io devo dire che i ragazzi sono stati molto bravi a trovare questa sintonia, a livello specifico io sinceramente c'è sempre da migliorare, c'è sempre da migliorare sul dettaglio, bisogna cercare di guardare bene il dettaglio, anche domenica è una partita difficilissima, si è fatta a Vellino, ultima della classe, ma quando una squadra gioca alla meno, giocano col pallone sempre fuori, il pallone non c'è raccata palle, non c'è pallone, quindi bisogna essere bravi a gestire le situazioni, secondo me la cosa bisogna migliorare è questo, bisogna essere bravi a attaccare subito e avere momenti di pausa, perché non possiamo attaccare sempre dal primo al novantesimo, quindi bisogna essere più bravi a gestire meglio quei momenti che sono un po' morti in una partita dove non bisogna subire, ma bisogna cercare di capire di come attaccare meglio l'avversario, questa è la cosa che forse adesso manca ancora un attimo, perché noi si parte sempre forte, fino a che si va forte, si va forte, non riusciamo ancora bene a decifrare il momento che bisogna un attimo staccare per l'acceleratore, perché 90-90, 95 minuti, quando stanno sempre in Beretti non si può tenere sempre l'acceleratore premuto, quindi dobbiamo essere ancora più bravi a gestire meglio quei momenti della partita dove si può anche staccare un attimo e non rischiare, questo è il discorso. Manu, proseguendo sempre nell'analisi di questa stagione, dal tuo punto di vista, da allenatore, tu l'anno scorso hai allenato gli allievi nazionali, sei quindi salito di due categorie, e scusami i giovanissimi nazionali, chiaramente arrivando, piazzandoti bene, proprio alle spalle delle posizioni valide per le qualificazioni delle fasi finali, ecco, che cosa hai, cioè per te, diciamo professionalmente e personalmente, che cosa è cambiato, chiaramente i ragazzi sono più grandi, poi che cosa cambia veramente, e questo anche per parlarne un po' con i ragazzi che ci ascoltano. Sono dell'idea che all'anno una Beretti, ragazzi di 17-18 anni, ragazzi che vengono al campo con la macchina, quindi cambia veramente tutto rispetto all'allievi nazionali, perché anche il modo di parlare, il modo di caricare la partita, il modo di spiegare quella partita, anche i concetti che un allenatore vuole, no, prima un allenatore, un mister, che quanto mi reputo, non un mister, ma sto cercando di fare l'allenatore, secondo me cambia tante cose, cambia proprio l'operazione della partita, il modo tattico, secondo me c'è molta più tattica, sai bene come gioca l'altra squadra, sei punti forti, mentre quando sei più ragazzino conta tanto, secondo me, la motivazione, ma a livello di gruppo è bassa, invece qui a livello Beretti bisogna essere veramente molto organizzati anche a livello tattico e sono dell'idea che la mia squadra ha fatto tanto in questo periodo qui, sotto questo aspetto, da inizialmente partire con dei moduli di gioco, non dei moduli, i moduli sono degli atteggiamenti di gioco, perché i moduli secondo me non contano tanto, nei palloni contano più l'atteggiamento di gioco, siamo riusciti ad avere un atteggiamento positivo, un atteggiamento che la partita si va a aggredire, un atteggiamento senza nessuna paura, sapendo la nostra forza, e siamo consapevoli che giocando con l'atteggiamento positivo noi possiamo far bene e questa secondo me è la grossa differenza fra un campionato giovanissimi e un campionato under 18, 18 anni, quindi secondo me il tutto sta all'ista, il modo affrontato a partita, il modo più giocatore, siamo più pronti secondo me per vedere di che passiamo fatti, anche perché la Beretti è l'ultimo treno giovanile, nel senso questa è l'ultima categoria giovanile che c'è, il prossimo anno, il 97, andranno a giocare in categorie che contano, tra i direttanti, o tra i direttanti, o tra i direttanti, spero che ce ne andranno tanti, e quindi siamo a un momento, un bivio mister, un bivio importante, quindi i miei ragazzi non me la stanno affrontando molto bene. Continuando sempre a parlare della Beretti, se non ricordo male, anzi mi ricordo sicuramente questa parte, l'ultima volta che sei stato qua in radio da noi, che era agli inizi della stagione, tu avevi puntato moltissimo su diversi ragazzi, Gianardi, D'Angina, insomma diciamo i ragazzi che hanno anche quell'anno in più, e quindi un po' più di esperienza con la Beretti, ma su cui tu avevi fondato inizialmente il gruppo, ecco se inizialmente qualche problema hanno avuto anche loro, mi sembra che ultimamente proprio i vari D'Angina, che forse ancora qualcosa deve pagare, da un punto di vista comportamentale in campo, questo è un aspetto che vedo io e noto io, e non tu, insomma questi ragazzi su cui avevi fatto affidamento, poi alla fine effettivamente hanno risposto presente, e non considerando, cioè considerando anche per il portiere, quindi insomma i nostri pezzi hanno vanta diciamo, no no ragazzi, allora io eventualmente avevo puntato su uno zoccolo duro, che fra l'altro erano ragazzi del 97, che l'anno scorso non avevano giocato molto, D'Angina l'anno scorso avevano fatto veramente poche presenze, prima con Borosso, poi con Nicolini ha giocato di più, poi c'è Gianardi che aveva giocato, poi c'è Puleo che aveva giocato, che per me poi inizialmente non c'era, poi ha rientrato, Bottrini che ha giocato molto poco, qui il 97 è Giacobbe che non tante volte ce lo danno, e tante volte le più volte alla squadra, quindi giusto che sia così, giusto, certo, sì sono stati molto bravi loro a capire l'attuazione, a cercare di rendere situazioni il gruppo, anche se poi i miei 98, perché io non ho mai fatto questa divisione, io la prima volta sono andata a un rispogliatore ragazzi, gli ho detto per me non esiste il 98, non esiste il 97, tra l'altro Nencioni 99 ha aggregato con noi, Faraoni 99 ha aggregato con noi, assolutamente aggregato, Faraoni magari può essere considerato un aggregato, ma Nencioni è un titolarissimo mi sembra della tua squadra, sì sì ma infatti Nencioni si sta comportando bene, ma io ho dell'idea che quando sei in una squadra, non conta più l'età, insomma il documento qui, io entro all'attuazione e ho detto per me può essere anche uno un 2005, se fa più forte di un 97 gioco un 2005, quindi la cosa che ho sempre voluto far vedere, non ho fatto mai di gruppi, e la cosa veramente che sta importante è che i 97, che sono più grandi, non hanno mai fatto pesare questa cosa dell'essere più grandi, perché se no così vai poco avanti, siamo sempre tra tutti uniti, tutti insieme, da un 99 al 97, quindi per me questa è la forza di questo gruppo. Ecco, tornando indietro, allora se si iniziano a contare questi nove risultati consecutivi, si va prima delle vacanze addirittura natalizie, ecco la svolta di questa stagione, che a questo punto vada come vada, sicuramente ha imboccato la strada giusta, nel senso poi ci potrà anche essere prima o poi un passo falso, non è che sto qua a gufarla, ma è chiaro, non si può sempre vincere, ci si spera e si gioca per vincere, però insomma è importante continuare a crescere, dal punto di vista tecnico, ecco la svolta per questo grande filotto, di nove risultati consecutivi, qual è stata, e soprattutto in che cosa hai visto, insomma il famoso passaggio, la convinzione nei ragazzi, ecco quando è che i ragazzi si sono convinti delle proprie potenzialità? Ti vado un po' indietro, ti vado un po' indietro, perché noi prima di questi nove risultati consecutivi, sono venuti ormai da, era prima di Natale, quindi insomma prima delle feste, abbiamo fatto un paio di pareggi, abbiamo pareggiato un casa col Ponte d'Era, non facendo bene, poi ci sono stati due pareggi di fila, quel 2-0-2-2 contro l'Arezzo, che l'abbiamo veramente messi sotto, la squadra che non aveva mai, per pareggiare una partita, l'abbiamo messi sotto per 83 minuti, l'ossenza con Salerno, che a Salerno l'andassi per 2-1-2-0 fino all'ottantunesimo, e poi si va, sinceramente a me la svolta è stata la partita di Teramo, quando a Teramo, un'altra volta in vantaggio 1-0-1-1, quindi la vittoria esterna, 3-2, 3-2 a Teramo, perché secondo me è scoccato qualcosa da ragazzi, perché, ma ragazzi come a me, come a chi è con me, sinceramente abbiamo visto veramente la squadra che, 1-0 noi, 1-1, 2-1 noi, 2-2, e Gianardi alla fine, tra l'altro mi sono girato un panchino, ho fatto, ma come si fa la prima partita qui, invece poi Gianardi, 3-2, ma a 20 minuti della fine, qui siamo stavolto 20 minuti, a non prendere meno il tiroporta, quindi, come è stata quella, poi da lì, cioè, ci mancava una vittoria, dopo tanti, qualche, 5 parigi di fila, ci mancavano 4 parigi di fila, scusami, ci mancava una vittoria, è venuta in un momento difficile, dove magari nessuno si aspettava, anche se io, anche perché, ricordiamolo, dato che non tutti seguono la Berretti, e il Pisa andò a Teramo, che era terzo in classifica, insomma, e si stava giocando, oltretutto, proprio in quella giornata, il secondo posto, perché tutto poi giocava con l'Arezzo primo, quindi insomma... ma era una partita molto difficile, però i ragazzi, due ragazzi, vuol dire che, quella partita lì, mi hanno dimostrato, di avere quella cosa che l'ho chiesto, io gli avevo chiesto di dare tutto, di non, qualsiasi situazione succedeva, se vai sotto, se vai, ti riprendono un'altra volta, devi non dare tutto, e stavo molto, secondo me stavo probabilmente, la svolta, quella partita lì, poi, anche poi, ti ho detto, poi sempre, se hai fatto una buona partita, lì vedi com'è il calcio, sì, il Colsiena in casa, due settimane fa, 1-0 noi, partita benissimo, 20 minuti, non si fa il gol, 1-1, calcio di rigore, espulsione, eh sì, si restano 10, Giacobbe para il rigore, poi al 93esimo, con un nuovo entrato, nuovo acquisto, negozio, fa il 2-1, il calcio, secondo me, ogni domenica, c'è una verifica, come quando la gente, i ragazzi vanno a scuola, vanno a scuola, prepararsi una verifica, noi si va, ci allenano tutti i giorni, per prepararsi una verifica, che il calcio, ogni domenica, può dire la sua, ogni sabato, può dire la sua, quindi, noi però, si stanno rispondendo, veramente bene, sono convinto, che ora, qualsiasi cosa, può succedere qui in fondo, noi affronteremo, tutte le partite, con lo spedetto giusto. Ed ora, arrivando più alle partite, diciamo, arrivando alla storia recente, sabato scorso, ad Avellino, in casa della penultima classifica, quindi, anzi, dell'ultima classifica, insomma, pensando, o perlomeno, dando sulla carta, i tre punti facili, invece, la vittoria è arrivata, grazie al gol di Micchi, solito Micchi, che, nelle ultime sei partite, ha segnato cinque gol, e che, al settantesimo, settantatresimo, se non sbaglio, quindi, nella ripresa, ha fissato l'1-0, risultato striminzito sulla carta, ma che, ha dato, quei tre, famosi punti, per andare a meno tre, dal quarto posto, ecco, che partita è stata, e se ti aspettavi, questa resistenza, da parte di Avellino? Allora, la partita di Avellino, è stata una partita, molto strana, perché, condizionata dal forte evento, eh, l'Avellino giocava, a non giocare, l'Avellino è stata l'ultima classifica, però che, della sua, fa quello che magari, io non farei, però, lo ragiono in questa maniera, hanno fatto un calcio, a buttare il pallone lontano, a fare falla, appena ripartevi, c'era questa pista, intorno al campo, dove il pallone, per prendere, non ci voleva il motorino, quindi, non davano mai il pallone, per riparte, per prendere gioco, quindi, ogni fallo laterale, era un minuto, un minuto e mezzo, perso, noi, si è fatto un paio di azioni bene, quando non ce l'avevamo fatto, portieri, lui è stato bravo, e poi, al sette, a tresimo, Tangina, ha fatto uno schema, su punizione, provato e riprovato, lui ha cambiato qualcosa, sono sincero, lui ha cambiato qualcosa, questo schema, e, ha trovato, ha trovato il guizzo di micchi, quindi, secondo me, sta veramente una partita difficile, però, anche quella lì, è tenuta molto bene, perché, secondo me, non c'è niente di scontato, non c'è niente di scontato, perché l'avevamo, le ultime partite in casa, aveva perso solo di un gol di scarto a tutti, in casa, aveva perso veramente un gol di scarto a tutti, quindi, perché il suo modo, l'avevamo, è il suo modo di giocare, a non giocare, e non far giocare, a giocare, quindi, rispettano il gioco, e, secondo me, sta veramente una vittoria di carattere, io, a fine primo tempo, ragazzi, oggi si vinceva la partita, perché poi diventa tutto, diventa qualcosa, si fa veramente qualcosa di importante, perché non è niente di scontato, e, i ragazzi, un'altra volta, mi hanno, mi hanno saputo, far vedere che, quando, ci metti quella cosa in più, il calcio paga sempre. E, come hai appena detto, il gol è arrivato su, uno schema, su calcio piazzato, quindi, su punizione di Dangina, per Micchi, e, proprio, sette giorni prima, era accaduto lo stesso, in casa contro il Siena, il 2-1 era arrivato, sempre su punizione, quindi, calcio da fermo, al 94esimo, quella volta lì, ma, insomma, con gol di negozio, ecco, punti molto sul, ora, non scopriamo troppo le carte, insomma, punti molto sugli schemi, magari, anche sul calcio piazzato, ecco, curi molto questo aspetto del gioco. Una cosa che ho sempre, ho sempre pensato, per meglio, anche, se si guarda le statistiche, le partite vengono risolte, in tutte le categorie, penso, mi sembra, con tutte le categorie, sempre, la gran percettuale, la gran percettuale, bisogna risolta la palla a fermo, io sono uno che l'ho, sia da giocatore, le farmi, si curavano molto, gli attori che ho avuto, le curavano molto, sia a livello di, sono documentato, studiato, ho cercato di, di aggiornarmi sempre di più, perché, mi sono accorto, e proprio, i professori parlano così, e dicono che, le palla a fermo, sono fondamentali, sono un'arma, che va, che va affutata bene, noi abbiamo la fortuna di avere, D'Angina, Ramon, che le calce veramente molto bene, vero eh, un bel piede, calce bene, calce pulite, tese, a giro, pulite, la palla fa sempre il rumore giusto, quindi, e poi, ora come ora abbiamo, Niccolò, Niccolò, i micchi che sta facendo, vedendo la porta, che se tira, anche se tira, il fallo laterale, fa gola, bene eh, ma meno male, sono momenti, le belle attaccate sono così, ora abbiamo trovato anche questo, anche questo ragazzo, Antonio Gozio, che si fa trovare super pronto, io sono dell'idea che, se il secondo me, adesso va al calcio, va a momenti, uno che a gola, Niccolò ha sempre fatto i gol, quindi, i gol, quindi, in categoria, le farà sicuramente anche quest'anno, continuerà a far, spero per me, per la squadra, per lui, per lui stesso, che alla fine poi, per se stesso, per la squadra, che continua a fare ancora. Eh, mister, oltretutto, proprio parlando di Bombernicchi, ehm, dopo un momento, cioè, diciamo, un inizio positivo, un momento di defiance, soprattutto un momento positivo, che aveva portato alla convocazione nazionale, la convocazione in prima squadra, non prima squadra in campionato, ma insomma, a presenziare spesso anche in allenamento con mister Gattuso, insomma, dopo questo inizio così scoppiettante, poi c'era stato qualche problema, e il ragazzo era apparto anche più appesantito in mezzo al campo, e insomma, aveva perso poi quello che contraddistingue il Bomber, ecco, è tornato a fare tanti gol, tanti di fila, e addirittura ha raggiunto quota 12 in classifica generale, 13, 10? 10 gol ha fatto. 10, vabbè, allora, la classifica che ho avuto io, si è rimasto un 10, cioè, sei andato avanti, sei andato oltre, ho anche scritto sul giornale, ma mi era affidato a una classifica evidentemente sbagliata, va bene, quindi 10 gol, comunque è la famosa doppia cifra che in qualsiasi categoria, come hai appena detto, per un Bomber è sempre, diciamo, da qui in avanti, fa la differenza fra chi li fa e chi li fa ogni tanto, ecco. Io sono dell'idea che, allora, un attaccante è quello che finalizza l'azione, quello che alla fine lo vai a bracciare quando vinci, lo vai a bracciare quando fai gol, quindi è quello che risalta molto, però questa squadra qui ha tanti elementi di grande qualità, io reputo che un attaccante quando gli manca, ma a qualsiasi categoria penso, anche un ragazzo di 18 anni, a 16-18 anni, mi sembra, quando gli manca il gol lo soffre, no? ma chi è un 98? È un 98, poi lo soffre, lui è uno di carattere che va stimolato molto, no? Però, devo dire che, per tutta la squadra sta facendo veramente bene, la parte difensiva si sta rischiando veramente poco, Dangina, Gianardi, Dencioni, potete ripetere tutti, Puleo, Raffaeta, Chiavacci, Leceti, Turchiun, Favale, Favale un altro sta facendo molto bene, le balle da stadio, la sto facendo molto bene, quindi, stanno facendo veramente tutto il suo contributo, in maniera importante, e penso, ora come ora è indispensabile. Parlando ancora dei singoli, so che, insomma, è sempre un problema, però, è un problema, per me, ecco, sono altri problemi nella vita, no? Allora, parlando sempre dei singoli, passando un po' in rassegna, i ragazzi più in forma, o perlomeno quelli che stanno dando il meglio, in questa stagione, dicevi, Favale esterno-sinistro, insomma, esterno-basso, ma anche in posizione avanzata, insomma, grandi falcate, oltretutto, c'è stato qualche, in qualche occasione, l'hai utilizzato anche come centrale di difesa, no? Nei momenti di difficoltà, centrale di centrocampo, centrale di centrocampo, sì, mezzala, il Peme Giulio è un, io sono convinto, per come lo vedo io, è un terzino-sinistro, ovviamente, nelle partite, con ragazzi di qualità, e che sa fare vari ruoli, quando ti manca dei ragazzi, lo puoi spostare in tutte le parti, questa è una cosa molto positiva, poi sono contento che tanti questi ragazzi, vanno spesso all'enassi con un mister Gattuso, quindi, è una cosa veramente bellissima, come cosa per loro, sono ricordi, sono cose che si insegnano, sono, vivono il calcio vero, vivono la settimana in un calcio, in un calcio dove conta, quindi, ci va molto spesso D'Angina, ci va spesso Favale, c'è sempre, ci va Mick, guarda, ci sta tornando Mick, c'è andato Chiavac, c'è andato Nencioni, quindi, devo dire che veramente, sono contento per loro, perché sono mega, ci stanno veramente dando tutto, e quindi, io, per me, questo è un gran gruppo, è un gran gruppo, con grande qualità, se sì, che noi crediamo all'obiettivo, ci crediamo, l'obiettivo che ho detto, anche mi ricordo un'intervista, che mi hai fatto qualche giorno fa, noi guardiamo partita in partita, mancano le partite qui alla fine, cerchiamo di fare più punti possibili, e guardiamo dove arriviamo. Senti, a proposito, di Mr. Gattuso, e del rapporto che c'è tra Berretti, e prima squadra, anzi, io direi, prima squadra e Berretti, che è una bacina, insomma, oltretutto, anche se non vengono pubblicizzate spesso, la tua squadra si trova a giocare amichevoli, di preparazione per le partite di campionato, della prima squadra, mi sembra successo. Si è fatto delle volte, abbiamo fatto, ma ultimamente lo sta avvenendo molto spesso, noi abbiamo tanti ragazzi, veramente, che vanno con la prima squadra, vuol dire che... Ecco, proprio a proposito di questo, quando il ragazzo va in prima squadra, si intende che fai cinque giorni di allenamento, in prima squadra, mi sembra, oppure no? Non sempre così, tutte le volte, per esempio Giulio Favale, va proprio a quelle volte, va a quattro, cinque giorni, tutti laggiù, tutte le volte li prendono, di cosa hanno bisogno, ovviamente, se hanno bisogno di un tipo, di un tipo di giocatore, se hanno bisogno di un tipo di giocatore, mandano a cui gli hanno bisogno, ma stanno bene ragazzi, stanno bene, si mettono la decisione, quindi... No, ma è un fatto super positivo, no? Perché un ragazzo, che fondamentalmente è un ragazzo, va a fare il cacciatore vero, prendendo e imparando, penso, insomma, cioè si impara in allenamento, si impara a stare in campo, si impara l'approccio al calcio, ecco, che cosa ti dicono, che cosa ti raccontano, insomma, sono raggianti, sono felici, sono... Certo, ma è normale, no, l'allenamento fatto prima a squadra, un ragazzo giovane, è sempre qualcosa di... Mi immagino i scappellotti che prendono, È normale, è giusto, se non gli hanno sbagliato, se non gli hanno sbagliato, poi insomma, comunque c'è il con... un allenatore preparatissimo, quindi insomma, che c'è un passato del calciatore, che è un allenatore importante, quindi... Il calciatore vero? È stimolante, quindi... I ragazzi sicuramente daranno tutto, i allenamenti sono diversi, quindi ovviamente, delle volte posso far più fatica, delle volte no, però io sono convinto che i miei ragazzi diano tutto sempre, e non si risparmiano veramente con la prima squadra, anzi stanno veramente, cercano di buttarsi le gambe dietro la schiena, la schiena, e abbiamo più vita da forte, quindi... No, secondo me, è una cosa molto positiva, che ovviamente, quando ci vanno, quando loro vanno prima a squadra, l'allenamento sarà un po' più ridotto, ma non possono morire nulla, l'allenamento è fatto un po' più, dipende quanti siamo, a volte è fatto meno di numero, quindi, all'allenamento sarà fatto diverso, insomma, se ci vanno tutti dal lunedì al venerdì, e poi stanno andando come stanno andando ora, poi mi possono andare anche anche il minuto prima della partita, quindi, me le vedo il sabato, va benissimo uguale, se facciano i risultati, poi mi possono andare anche fino al sato mattino. Senti, ad esempio, hai notato, in questi ragazzi che frequentano spesso la prima squadra, il giro della prima squadra, dei miglioramenti, e in che cosa, no? Per cercare di capire un po', in quanto influisce giocare con i ragazzi più grandi, con gli uomini, insomma, no, sicuramente a livello, a livello tecnico, sono già, chiaramente a livello tecnico, imparano tanto, ma stare in campo, si intende, certo, stare in campo, il modo, gli atteggiamenti, gli atteggiamenti sono positivi, cioè, non, io non ho quel ragazzo che va a prima squadra e che, come è successo da molti in altre parti, quando ero un giocatore io, che il ragazzo da prima squadra si fa il fenomeno, ha detto, fa il fenomeno, e te lo dico io, no, io, questa cosa non mi è mai capitata, vuol dire che quando vanno a prima squadra sanno che dobbiamo fare, e quando vengono a prima squadra sanno che devo mettere a disposizione mia e della squadra, perché io, le vedo cambiate, praticamente è sempre giusto, quindi, questa cosa che vanno a prima squadra, secondo me, le fortifiche e basta, proprio a livello caratteriale, e qualche scapellotto farà sicuramente bene, anche a livello tecnico, tutti gli allenati, gli educatori come Mannini, come Lisuzzo, come Rozio, come giocatori così, allenati dal mister che è gattuso, può assolutamente far bene. Ci sono anche degli estimatori di Micchi nella nostra chat, Faustino, parisci ancora a piede caldo, forza Micchi. Ma Faustino è il nostro grande, ci segue, e credo, insomma, è uno che stima molto, no, Bomber Micchi. a proposito di Lisuzzo, no, non a caso, il mister, no, quando ha detto, vanno su, gli danno qualche scapellotto, imparano molto dai calciatori, non a caso ha citato tre calciatori, no, Lisuzzo, Lisuzzo, Perseconzo, Mannini, ecco, infatti Lisuzzo, proprio, in settimana, è arrivato anche il prolungamento di contratto, il prolungamento di contratto, e poi Lisuzzo ha fatto questo gesto, che l'ha citato anche Gattuso, in conferenza stampa, dopo la partita con Sant'Arcangelo, di cedere la fascia di capitano, ha il pisanissimo Daniele Mannini, insomma, non è un, non è così banale, così scontato, Manuel ha giocato, insomma, lo sa, no, da prendere e dare la fascia di capitano a un compagno di squadra, è indice che c'è veramente un gruppo forte, e che Lisuzzo è veramente un uomo squadra, e se pensiamo qual era il giudizio su Lisuzzo, cinque mesi fa, insomma, proprio vero, come disse Gattuso, tempo indietro nel calcio, rispetto alla vita, basta un niente, e le cose cambiano, o in peggio, o in meglio, ma il bello del calcio è che veramente, basta pochissimo per cambiare, e anche per rimediare a un errore, per carità. Eh certo, e insomma, allora, questa lunga, diciamo, introduzione, questa prima mezz'ora, della trasmissione, tra un po' mancano molti minuti, quindi tra un po' finisce, insomma, l'abbiamo fatta sulla Berretti, con mister Manuel Caponi, perché insomma, tu sei protagonista di questa grande cavalcata di ragazzi nero-azzurri, ora però, io direi di scendere un po' di categoria, per parlare di altre due squadre, almeno delle due nazionali, eh, nero-azzurre, che sono l'under 17, di mister Luca Guerri, e l'under 15, di mister Francesco Macri, considerando anche gli allievi 2000, di mister Gabriele Paffi, ecco, tre squadre, chiaramente gli allievi patiscono un po' la categoria, il campionato in cui sono stati posizionati, però insomma, sono tre squadre che stanno facendo molto bene, anche loro sono in crescita, l'under 17, chiaramente, forse è la migliore squadra del settore giovanile, punta direttamente alla vittoria finale del campionato, è stata rinforzata, insomma, è una squadra su cui hanno puntato tutti, e bene, insomma, hanno puntato molto, anche la società ha puntato molto, insomma, ma investendo, le altre due squadre sono l'under 15, di mister Macri, e gli allievi 2000, che fanno invece da bacino proprio, per l'under 17 da Berretti, allora, di queste tre squadre, io inizierei a parlare dell'under 17, di mister Luca Guerri, qual è il tuo giudizio su questa squadra, ma insomma, penso che non possa essere che positivo, ecco. Certo, i numeri, sono secondi, sono lì a un punto ora, quindi, i numeri parlo chiaro, cioè, Luca, secondo me sta lavorando veramente bene, perché comunque, ha veramente un buon gruppo, sia a livello di qualità, che a livello, secondo me, proprio comportamentale, sono ragazzi che noi ci alleniamo insieme al, campo sportivo Avicopisano, dove, con Michele, che è il suo, Combiani, che è il suo collaboratore, li vedo veramente, sono affiatati, quindi, sto facendo benissimo, io andai a vedere l'ultima, andai a vedere la partita, con il vinto 2-0 col Bologna, mi ricordo, al Calcinaia, c'ero anch'io, è bella, si vede che loro sono, a livello, a livello, sia, tecnico, che fisico, questo è cambiato qui, quando trovano queste squadre, che comunque, sono anche qualche anno, un anno sotto, capito, però, non state tutto, con chi l'anno sotto, un anno pari, questo è Bologna, per dire, il giudizio tecnico, poi mio, sull'Under 17, è che è una squadra, che riesce a avvolgere, l'avversario, cioè, non è che va lì, e vince, va lì, e stravince, cioè, lo batte l'avversario, insomma, io posso fare, tanto complimenti, perché mi hanno detto, che a Perugia, hanno dato veramente, grande calcio, quindi, 3 a 0, secco, ma giocando benissimo, quello che mi ha detto, il mister, no, quindi, mi fido, ci mancherebbe altro, quindi, secondo me, sta lavorando, veramente bene, è normale, poi, quando vengono risultati, è tutto più semplice, io, è tutto più semplice, che lui sta lavorando, quando, quando, fai risultati, vinci le partite, e quindi, la settimana, prepari in un'altra maniera, poi, è uno, molto tecnico, molto preparato, i ragazzi, sono veramente di qualità, di gradi, c'è, scusami, c'è un paio, Salvi, pesci, Salvi, Salvi, è un, ricordiamolo, Salvi è un 99, che, è fisso, da almeno, un qualche mese, con la prima squadra, si allena quotidianamente, con la prima squadra, è un 99, vuol dire tantissimo, un centrale di difesa, oltretutto, mister, che è un ruolo, sempre, no, tutti ragazzi, veramente in prospettiva, stesso Perindello, stesso Adamino, stesso Faraone, Faraone, con me, comunque, abbiamo veramente, veramente, qualcosa di, di molto, molto carino, anche Birindelli, il capitano, sono tanti ragazzi, hai citato alcuni, hai citato, ma insomma, a partire, sia Adami, Birindelli, che è il capitano dietro, il portiere, la punta pesci, insomma, a mezzo al campo, insomma, è una squadra, fatta bene, è un mister che lavora su dettagli, quindi, io, ogni tanto, mi ci fermo a guardarlo, perché, bisogna essere imparato a tutti, no, io sono dell'idea, che non è che se ha una benedizione allievi, non lo guardo, anzi, lui ha molta più esperienza di me, quindi, io lo guardo, gli chiedo spesso consigli, perché, bisogna sempre imparare, ho 29 anni, ci mancherebbe altro, quando devo imparare a Guerri, che ha fatto, campionati da tutte le parti, a 29 anni, è un bimbetto, è un bimbetto, è una metà dei miei, noi facciamo perdere il rispetto da parte dei suoi ragazzi, perché, è un bimbo, lo so, a dicembre ho 30 anni, ancora 30 anni, bene, buon per te, niente, allora, questo rapporto, abbiamo detto, le vie nazionali, andate di 17, grande squadra, fatta bene, fatta con criterio, e guidata meglio, che ha trovato, insomma, il famoso amalgama perfetto, e che si sta giocando il campionato, allora, domenica scorsa, vittoria netta, 3 a 0 a Perusa, dall'altra parte, il Siena è stato bloccato 2 a 1, ha perso anche il Prato, quindi, diciamo, nello stesso tempo, va a meno 1, il Pisa dal Siena, primo in classifica, ci sarà anche lo scontro diretto, proprio qua al Bianco Forno Camp, nel ritorno, una delle ultime 6 partite, credo la quart'ultima di campionato, quindi, insomma, lì si deciderà molto di questa stagione, e oltretutto, allunga sul Prato Secondo, quindi, insomma, come lo vedi in prospettiva, questo finale di stagione? Che dici? Ce la fa? Anche un, sbilanciati, dai, facci un pronostico. Sai, io ho il pronostico, io ti ho quello che vedo, io ho visto che la squadra, da continuità dei risultati, ma da tante partite, squadre, come il Pisa, che da così tanto, continuità dei risultati, non ce ne sono state, in questo girono, io guardo i risultati, io non ce ne sono stati, quindi, a lunga paga, questo paga, e secondo me, a lunga spero, ma spero per ragazzi, perché sono ragazzi, ragazzi, ragazzi educati, questo, ragazzi educati, il mister è uno che, tiene a tutto, è uno che correggge, anche se c'hai, lasciocamano più spostato da una parte, quindi, è un, ti parlo, mi spoglio, come ci spogliamo insieme, tante volte, lui, io sono più preciso, no, sono più, metto un po', sono più cacciarone, no, è più, molto più preciso, quindi, mi insegna anche su quell'aspetto lì, a me le casacche mancano sempre, lui le casacche ce l'ha sempre perfette, quindi, insomma, ho 30 anni, quindi, ci bondazzi errori, un pallone, posso anche pigliare da lui, no, vedi, però, secondo me, secondo me la squadra può lottare veramente fino a arrivare, a battere tutti. E, sai, poi, insomma, quando si arriva alle fasi finali, oltretutto, le squadre di Serie A e B verranno escluse, no, dalle fasi finali della, dell'Under 17 Lega Pro, si giocherà solamente con il meglio di categoria, va bene, parlato un po' anche dell'Under 17, scendiamo di categoria, prima parliamo un po' dell'Under, scusate, degli allievi 2000 di Mr. Gabriele Paffi, una squadra che sappiamo essere stata calata, in una realtà non sua, insomma, fa questo campionato provinciale, 99 chiaramente ad handicap e fuori classifica su Livorno, sta stravincendo, insomma, ha fatto 16 vittorie e due pareggi solamente, non ha mai perso, in alcune partite, insomma, il risultato magari è arrivato più striminzito, ma si parla sempre di 3 a 2, insomma, in altri invece sono arrivati 8 a 0, 8 a 2, insomma, sta stravincendo il campionato, ecco, il lavoro di Mr. Gabriele Paffi, credo che consista molto sulla tenuta mentale del gruppo, no? Ecco, tu che cosa, che cosa pensi di questo, intanto di questo inserimento in un campionato così provinciale? Questi ragazzi io li conosco di più, perché è solo il 2008, tanti ragazzi che ho avuto l'anno prima nei giovanisti nazionali, no? Sicuramente non è facile per l'allenatore, per il mister, fare un lavoro, quando vedi che le partite sono semplici, no? Non è facile, io però quando iniziai a allenare, iniziai a allenare un po' su questa categoria qui, ma ti parlo di 4 anni fa, e a Ponteleera, vero? A Ponteleera, iniziai a allenare gli ai provinciali fuori classifica, anche io, c'è la stessa cosa che sta allenando Paffi adesso, la stessa squadra, e di essere bravo veramente a te ragazzi sulla corda, allenati, perché allenarsi sempre, altra intensità non è semplice, soprattutto quando i risultati vengono semplici, però secondo me sono ragazzi, i tuoi 2000 che ho avuto io l'anno passato, sono ragazzi tutti, tutti di, veramente molto intelligenti, stiamo parlando di Mani, Gemignani, Bertoncini, Fiedeli, Policchi, tutti i ragazzi che ho avuto io l'anno prima, Prisa Nera, mi sembra sono ragazzi intelligenti, quindi secondo me danno, poi giocare a calcio è sempre bello, quindi quando vinci, se fai gol vuoi fare un altro, se pareggi poi vinci, quindi c'è non è, io sono dell'idea che secondo me, facendo un lavoro massimo, perché insomma tenere sempre altra tensione, quando risulta diventando semplice non è facile. E oltretutto il famoso, diciamo, se la squadra è stata fondata, proprio per non disperdere il capitale, no, dei calciatori in altre società, per poi doverli riprendere l'anno dopo, senza averli seguiti direttamente sul campo, però dall'altra parte il progetto era nato anche per, diciamo, cercare di portare i famosi 2000 a giocare in un campionato 99, qual è quello dell'anno del 17. Ecco, il famoso travaso, in qualche maniera è accaduto, no, e questo travaso si è anche strutturato, ora, non mi ricordo bene, ma mi sembra che a due settimane fa, mister mi disse che i ragazzi utilizzati in totale dell'anno 17 erano 56, o 36, anzi 36, quindi di cui, diciamo, 20, 25 erano in pianta stabile nell'anno 17, il resto, erano ragazzi che avevano esordito proprio nel campionato, eh, andre 17 nazionale, partendo dagli allievi 2000 provinciali, ecco, ehm, insomma, anche questo, alla fine sta andando, insomma, quest'anno sta andando, alla fine a livello nazionale sta andando un po' tutto, ecco, mi sembra, mi sembra di vedere, per ora, per ora, per ora, parla chiaro, la Beretti sta lottando le fasi finali nazionali, e i playoff per arrivare a fare le fasi finali, ebbene, hanno i risultati utili, l'allievi nazionale è secondo classifico a un punto dal Pisa, scusa, dal Siena, e sta disintegrando le altre squadre, e di là vedo, l'allievi provinciali stanno stracendo benissimo, e poi il mister Magri, che sta veramente lottando, quindi stiamo parlando dell'Under 15, quindi ancora scendendo in categoria, anno 2001, siamo ancora lì, siamo lì, siamo a meno tre dalla Carrarese, anche lì, eh sì, adesso io, io sono contento, è una categoria che, insomma, ecco, io l'anno scorso, la guardo molto volentieri, perché sto quasi, mi ricordo qual è il livello, no, quindi, la guardo volentieri per me, il mister, con un'acqua, allenandosi la fornacetta, io a Becovisano, non ho quelle, certo, il rapporto di stima, quando la veloci parlo, però non ho quel confronto, che posso avere con Guerri, no, però, insomma, riuscendo veramente a portare, anche domenica, per quello dei risultati, ho appena sentito parlare, ho parlato con vari, vari addetti ai lavori, insomma, del Pisa, vedo che hanno fatto un gran risultato, hanno detto, rimonta, Siena, rimonta, perdevano 2 a 0, e 2 a 0 all'inizio, cioè, nel primo tempo, negli spoletori, sono andati sul 2 a 0 sotto, e nei primi 20 minuti del secondo tempo, che poi lì, giocano 35, hanno ribaltato, sono andati sul 4 a 2, insomma, una roba a Siena, chiaramente, e oltretutto, qua, invece, se non sbaglio, Bomber Salvaggio, è arrivato a quota 12, quindi è un ragazzo, anche qua si conferma, chiaramente, oltre alla squadra, insomma, Campigli, vari, insomma, diversi e tanti ragazzi, che veramente danno qualità alla squadra, anche qua c'è un Bomber, che sta finalizzando il gioco di Mr. Macri, che è Salvaggio, Lorenzo Salvaggio, che ha sempre fatto tanti gol, li faceva nelle categorie più basse, 2001, quindi lo scorso anno, era con Mr. Alessio Orsini, giocava in verticale, era un gioco completamente differente, finalizzava in verticale, oltretutto contro squadre regionali, che probabilmente erano meno quotate, in difesa, insomma, lasciavano più spazi, quest'anno invece gioca contro squadre a livello nazionale, che puntano più sul gioco, e anche in questo caso, riesce a finalizzare, ecco, su Salvaggio, ad esempio, ti sei fatto un'idea? Io Salvaggio, l'anno scorso, quando facevo giovanissimi, l'ho portato spesso con me, non l'ho utilizzato sempre, perché comunque un modo di giocare di due, uno che crea molto profondità, uno che taglia dietro la linea, per quello che l'ho visto, è un ragazzo di prospettiva, vedi, è un ragazzo che comunque, se sta facendo il gol, quindi, io sono contento, siamo anche un bravo ragazzo, perché insomma, quando è venuto con me, ma se mi ha dispozione, senza nessun problema, anzi, cerchiava di, di darmi sempre una mano, quando l'ho messo, mi ricordo, le parti l'ho messo 10 minuti, quindi 20 minuti, sicuramente, è un ragazzo che, come tutti, questa qui, c'è ancora tante immagini di miglioramento, quindi, ancora, non si può, nemmeno, io penso, ugualmente, anche dalla massima categoria, a livello giovanile, non si può vedere mai, dove si può arrivare, no, però, è un ragazzo, sicuramente, di prospettiva. Parlando sempre, dell'Under 15, c'è un po' un problema, che poi non è proprio un problema, nel senso che, l'Under 15 è il primo campionato nazionale, no, che può affrontare un calciatore, in fasce, insomma, in fasce, non più tanto in fasce, perché ha 14 anni, inizia a essere abbastanza grande, nella vita, compri il motorino, è la possibilità del motorino, di andare in motorino, nel calcio, invece, si inizia a giocare campionati, anche di livello nazionale, e ci sono anche, proprio, le nazionali di categoria, ecco, allora, perché si continua, ad esempio, in questa categoria, così importante, oltretutto open, a giocare senza il, la terna, ecco, perché è un problema, che spesso, no, si configura, di cui spesso se ne parla, insomma, anche tra gli addetti a lavori, anche perché, sono squadre, che giocano molto sul, sul gioco, non è che giocano a caso, quindi giocano sul, fuori gioco, ad esempio, fanno schemi, insomma, stanno molto alti, insomma, stanno in campo, come una squadra vera, e senza la terna, succedono dei patatrack, spesso, no? L'anno scorso, l'avendo fatta io, questa cosa qui, l'ho proprio, anche, in un'intervista, in Fashion, mi ricordo con chi è, ne parlavo proprio, che la terna, tante volte, c'è la terna, come c'è un beretti, come c'è una linea nazionale, ti permettono di giocare, in una certa maniera, no? In alta, poi, puoi cercare, di fare, ma anche di formare, i calciatori, no? Chiaramente. Sì, in una linea nazionale, ancora, non c'è, tante volte, succede, che c'è, poi gioco di 25 metri, la metodo lo fischia, e poi, alla fine, che fai a dire, c'è, 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 d'acqua, ragazzi, se ti parli, io ho un'idea, che a me non mi è mai interessato niente, io, per la partita, secondo, il calcio, no? Bagliando tanto, sono i principi, i principi, con le cercate, nella squadra alta, e, se l'abito, non vede, poi giù a 5 metri, se penso che ho, se penso che ho, abbiamo lavorato, in una certa maniera. Va bene, quindi, insomma, anche su questo, hai dato la tua opinione. Te, Massimo, hai qualche domanda, hai qualche news, qualcosa di fresco? No, news niente, a parte che ci sarà domani, un'importante conferenza stampa, alle ore 12, allo stadio, a Pisa, presenteranno un nuovo progetto, è una, è una cosa abbastanza importante, secondo me, soprattutto, che dà una svolta, un po', e dà anche un po' il senso, di dire, ci piace, ci piace, della direzione in cui sta andando la società, è un progetto che si chiamerà, allo stadio in classe, è un'iniziativa promossa da Toscana Aeroporti, che sappiamo è uno degli sponsor dell'ACPisa, con la collaborazione del provveditorato, del comune di Pisa, e il Pisa l'ha raccolta, dalla prossima gara casalinga, ovvero da lunedì sera contro il, la Carrarese, il Pisa ospiterà in tribuna un'intera classe di una, di una scuola pisana, è un progetto che prevede la visita di una rappresentanza del Pisa, nelle scuole elementari del territorio, e poi a conclusione di questa visita ci sarà la classe che va tutta in blocco allo stadio. Domani poi ci sarà spiegato i dettagli di questa operazione, ci sarà Mister Gattuso, ci sarà Vincenzo Taverniti in rappresentanza della società, ci saranno i vertici di Toscana Aeroporti, il presidente Carrai, l'amministratore delegato Gina Gianni, Salvatore Sanzo, il provveditore agli studi Sebastiani. Quindi questo, noi ci saremo ovviamente anche noi, e vi racconteremo nel dettaglio, vi faremo sentire poi la sera la conferenza stampa, insomma vi daremo dettagli su questa operazione. Insomma l'operazione Gattuso a Pisa, oltre a portare qualità, ha portato sicuramente anche questo, diciamo la possibilità di poter fare questo tipo di attività, giocandoti sempre un jolly, no? Ebbè è chiaro che a livello di immagine, il bambino lo metti insieme a Gattuso, è chiaro che a livello di immagine è un bonus incredibile, è incredibile, è un bonus incredibile. Poi ci sarà a metà marzo, detto il presidente Petroni, questa presentazione in grande stile del Pisa Football College, vedremo anche lì con Alessandro Birindelli che sarà direttore tecnico, vedremo anche lì spesso il marchio, ovviamente il nome di Gattuso, Birindelli, insomma è un Pisa che prova a farsi largo in tutti i modi nel settore giovanile. Sì, cerca di coinvolgere giustamente il più possibile i giovanissimi per costruirsi delle fondamenta solide per il futuro. Anche perché senza i piccoli calciatori non si hanno le squadre dei grandi, ma senza i piccoli tifosi non si hanno i tifosi del futuro. Assolutamente. Quindi bisogna pensare sempre a ciò che c'è alla base che serve poi per fortificare e rendere forte una società. Allora, io scommi siamo a 5-4 minuti dalla fine della trasmissione, no? Non sbaglio, vero? Sì, sì, siamo quasi chiusi. Inizierei a guardare il programma della prossima settimana, lo commentiamo un po' insieme e poi facciamo un'ultima nota finale da parte, facciamo dire un'ultima nota finale da mister Caponi. Allora, detto che allievi nazionali, quindi Under-17 e giovanissimi nazionali Under-15, insieme a Pulcini 2006 di Mister Cervelli, saranno fermi per la sosta di campionato, andiamo a leggere il prossimo turno. Quindi iniziamo da sabato 20 febbraio, ore 14.30 a Bianco Forno Camp, Berretti, di mister Mario Caponi, il Pisa riceve l'ischia Isola Verde in un vero e proprio test match che dovrà ancora una volta, come abbiamo appena detto, mettere alla prova la tenuta mentale e nella tenuta dei risultati da parte dei ragazzi nero-azzurri e non solo, l'ischia Isola Verde arriva con soli tre punti di distacco, quindi giocherà tutto e farà di tutto per agganciare i nero-azzurri. Cioè, scusa, c'è Denis, ci dice, un altro buon giocatore non nominato dell'Under-17, credo sia Bertoni. Eh, sì, 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 assolutamente. Bertoni, che è stato uno degli ultimi acquisti. Bertoni è venuto anche con me una volta a Salerno, fra l'altro fece anche gol, quindi, no, no, io non l'ho nominato, ma soltanto perché ce n'ha tanti, no? C'è un po' di vena polemica, perché tutti vorrei... No, scherzo, scherzo, scherzo. No, 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 felice per questi ragazzi, comunque, quando c'è ragazzi bravi, io, beh, io e mia non me... No, no, ma Bertoni, grande qualità. Ora, io me ne ero dimenticato, perché credo che due domeniche fa, quando l'ho visto giocare a Calcinaia, l'anno del 17, era fuori, credo per infortunio, se non sbaglio, si è fatto male a un braccio nella penultima trasferta però insomma si è un ragazzo di qualità e si è inserito alla stragrande da quando è arrivato sta giocando sempre insomma quindi più che inserito nell'Under 17 di Mr. Guerri quindi anche Bertoni sicuramente un ragazzo di qualità e di prospettiva scendere di categoria, lievi provinciali sabato 20 febbraio anche loro ore 10.48 questo quindi è sicuramente sbagliato sarà domenica mattina 21 febbraio ore 10.48 mi sembra anche un orario un po' particolare, un po' bizzarro credo che ci sia un errore della segreteria va bene il Pisa di Mr. Paffi va a giocare in casa del Carli Saldiano scendendo di categoria giovanissimi pro 2002 di Mr. Alessio Orzini domenica mattina ore 11 se la vedranno al Bianco Forno Camp contro la Carrarese ancora più in basso i giovanissimi B 2003 di Mr. Simone Becchi non so se è ancora squalificato se fosse squalificato in panchina ci sarà Ercoli ore 11 contro la Carrarese a Carrara e poi insomma arrivando proprio ai più piccoli esordienti 2004 di Mr. Pasquini squadra capace insomma che riesce a ottenere forse meno di quel che riesce ad esprimere in campo ma ricordiamo che esordienti 2004-2005 e Pulcini 2006 giocano ad handicap quindi giocano in campionati provinciali sono squadre selezionate del Pisa il primo esperimento di quest'anno che insomma diciamo soprattutto il 2005-2006 sono proprio due veri e propri esperimenti comunque squadre selezionate che stanno facendo molto bene 2004 che giocherà a Ponte d'Era nel derby contro il Ponte d'Era alle 9.45 domenica mattina 21 febbraio esordienti B 2005 di Mr. Corzini giocheranno sempre domenica mattina ore 10.45 a Pisa quindi al Bianco Forno Camp contro il Pisa Ovest scusate sono stato un po' confuso dal Pisa e Pisa Ovest ecco allora mister dai mancano solamente è poco ah no manca 10 secondi non manca niente lo saltiamo siamo arrivati in fondo siamo arrivati in fondo è una bella puntata che è volata via via dai mister allora ti facciamo l'in bocca al lupo non gli auguri perché portano a mare ma l'in bocca al lupo per questo finale stagione alla prossima grazie Crepi ti aspettiamo prestissimo ciao a tutti alla prossima ciao grazie Radio Pisa Junior ogni mercoledì alle 18.30 un salto nel futuro nel Razzurro Carlo Palotti e Andrea Chiavacci in compagnia di Massimo Corsini vi raccontano tutto ma proprio tutto del settore giovanile dell'AC Pisa 1909 Razzurro Raconte c'è '